Devo fare i complimenti alla curva sempre presente qualunque tempo, soprattutto vorrei a caldo ad Arturo Di Napoli che mi sta meravigliando veramente, complimenti ad Arturo, indovina tutto, non ha paura, giochiamo all'attacco e noi ci mettiamo il cuore. Già un pari era buono? Sì, ma volevamo di più. Hai perso la voce? Sì, pure la scorsa volta. Dico, vincere una partita in dieci è un'impresa? Sì, anche l'arbitro non era dalla nostra parte, però vabbè, buono. È un anno bellissimo, un inizio bellissimo? Speriamo che continui così. Vincere queste partite danno entusiasmo, sono importanti, speriamo che riuscivano a mantenere questi ritmi e che la fortuna sia anche dal nostro lato. Ecco, fammi un nome su tutti oggi. Ma su tutti sicuramente Cucuzza ha dimostrato che vale la nostra categoria e che un po' tutti, il difensore centrale l'ho visto molto bene, un po' tutta la squadra, con cuore, hanno giocato tutti col cuore. I miei amici dicono anche Giorgione. Sì, anche Giorgione, certo. Buzicotti ha giocato bene. Buzicotti su tutti. Adesso... Dove può arrivare questa squadra secondo lei? Ma sicuramente faremo un ottimo campionato, poi la nostra fede vuole sempre il meglio.